inviare le due fotografie sulla nostra pagina facebook rete spazio smash in posta privata verrete ricontattate perché noi facciamo già una selezione di ragazze dopo andremo da lì da mattare un'altra foto una foto al commissario del comune sono tre tre più due tre più due cinque sei tre più due allora le candidature possono arrivare fino al 27 gennaio perché il 28 noi decideremo chi sarà la nostra principessa che poi andrà io qui nel terzoio da Rita Mattarella posso portare un'occasione anche per Enrico io ho un piccogliere a un piccogliere tu ho cariato ho le occhialine prima faccio una ragione di me la mano ringrazio lo puoi andare a volontà? devi chiedere per questo al cinciò posso andare dove? io sì a certe età, zio Franco a secolo cincido il condottiere. Allora, dicevo, qualche complessione per ringraziare i nostri sponsor e ci hanno permesso appunto di organizzare questo contesto, ovvero Matteo Pitucano che regalerà alla ragazza la vincitrice di questo mistero di Smash, uno shooting fotografico, e più con tutto lo staff, l'equip della parrucchiera Marina Balzano, la truccatrice Amma Balzano e poi gli abiti saranno messi a disposizione. Sarà la truccatrice? Poi abbiamo un sorbio per voi. Ma fa messo in più. Gli abiti saranno messi a disposizione. Grazie a V-White, quindi ringraziare i sponsor. In breve stiamo aspettando le candidature delle ragazze di Manfredonia, è un concorso che mantinerà l'attenzione non solo delle donne, ma soprattutto anche degli uomini, quindi sarete voi attraverso Facebook perché voterete la nostra Miss Redesmash. Quindi mettete in like la vostra pagina di Redesmash, questo lo potete votare. Puoi fare l'assessore un pocai e incursa le... Al coriandoli! Al coriandoli! Al coriandoli! Al coriandoli! Al coriandoli! Va bene, grazie! Scendiamo le donne! Scendiamo le donne, signori! Facciamo un'intervista a Rita. Rita! Vieni a casa! 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 Che cosa sei parlato? Cosa stai a te prima? Ti ho parlato, sa? No, stavamo così, con uno scapuzzino che eravamo morti di freddo. Vieni a casa! 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 E anche la vostra doveva dare un ufficione... Allora! Canarita! Un minuto solo! Il fondo della presentazione. Lo spettacolo di Cintanoma Manchi, ti ricordo? Bellissimo! Che facevo in piazza! E a teatro lì, ti ricordi? Bellissimo! Abbiamo fatto tutto! Portavamo gli artisti di Montferdonia a un successo senza presione. Bellissimo! E' vero? Va bene! io intanto vorrei invece salutare due dei nostri partner di questa edizione saluto sia il Garda Onofantino che il Parco Nazionale del Gargano che hanno adeguato